eccoci qua cari amici salve a tutti guardiamo qua da parcheggi esterni qua di un ristorante cosa andiamo a visionare intanto abbiamo visto il calico di una matis che avevamo già presentata anni fa in un filmato e poi soprattutto cari amici appassionati di vecchie citro guarda qua caro max abbiamo qua veramente la gran chicca eccoci qua cari amici appassionati di citro ci portiamo su questa track ava qua del bravissimo pietro del 1951 e adesso vi faccio vedere un po ecco qua tracce di track ava del 1953 marce e niente dai pietro fai un saluto qua gli amici delle citroen che sono tanti sei ciao a tutti ciao a tutti dimmi qualcosa di questo tracks ava è stupenda bellissima l'hai presa era in brutte condizioni l'hai restaurata tutta completa l'hai restaurata tutta completa bellissima è tutta originale adesso ragazzi adesso voglio farvi vedere un po questo cruscotto molto molto bello ecco qua funziona ancora anche l'orologio funziona tutto vero ecco qua ecco qua ecco qua bravissimo pietro qua pietro c'è pietro ecco qua bravo pietro che insomma hai fatto in questi giorni gli anni e guardate qua un gioiellino eh guardate qua appassionati ti faresti vedere il motore l'orologio vai vai guardate qua ragazzi bravo pietro che sposta qua la track ava del 1951 qua eh pietro giulio giulio è il figlio pietro ecco è il bravissimo possessore della track ava è venuto apposta per me per farmi vedere questa track ava perché erano anni che dicevo ai camion storici insomma potresti venire con questa track ava eccola qua eh spettacolo eh guardate qua appassionati qua di vecchia citro eh saluto tutti gli amici del trentino delle citro ma come saluto Roby il grande organizzatore nel vicentino insomma guardate qua che gioiellino eh insomma questa qua è sempre al coperto sempre in garage sempre in garage ma meccanica l'hai rifatta tutta 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 ti da soddisfazione eh molta molta soddisfazione quello è importante guardate poi qua mi sembra questi fariti hai detto aggiuntivi vero e aggiunti da tempo poco tempo eccoci qua ragazzi vogliamo un po' di dettagli qua eh il bravissimo pietro qua eh questi qua dicevo dei aggiunti da poco li hai trovati ecco qua ragazzi insomma benissimo eh e niente qua pietro potresti venire a fare qualche raduno con con i pazzi delle citroen qua con la discoteca con i DS eh guarda qua Alessandro Gino chiamiamo che bravo pietro eh giovanile lo stesso cosa dici tu pietro guardate qua eh guardate qualche spettacolo eh insomma molto molto bella insomma se sei dal primo colpo va alla grande sì 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 e così qua ragazzi beh così anche tu pietro eh una bomba una bomba diamo un'ora insomma anche a te pietro no? sì sì mi dà molto soddisfazione insomma per anni anni ti dicevo porta a stare eh vero guardate qua ragazzi i dettagli eh guardate qua qual è il dettaglio che ti piace di più come rifinistura eh ti piace di tutto sì eh eh è così qua e niente dai ragazzi spero che l'amico Max appunto che è un po' il nostro cultore professore come anche Walter e Sergio insomma sia contento di questo piccolo record sono finalmente una traccava sentiamo anche la gioconda dunque è del cinquatuno del cinquatuno salutiamo la vecchia Gio guardate qua poi anche queste queste frizze interessanti eh guardate qua bravissimo pietro spettacolo eh eccoci qua sei da discoteca puoi venire a fare un po' di musica afro e portare la macchina non c'è la raggio non c'è la raggio va bene eccoci qua ragazzi spettacolo della Citro Avant grazie Pietro fai un saluto agli amici a te grazie a te ecco qua bravissimo Pietro eccoci qua e niente insomma guardate qua eh salutiamo anche il bravo Giulio Giulio cosa diciamo il papà ciao Marvin papà devi andare piano perché dopo pranzo sai ma gli hai detto tuo papà potrebbe venire anche qualche raduno Citroen c'è musica afro un po' di canne così no ma mi fa male più che le canne la musica afro ragazzi vi saluto spettacolo grazie Pietro sei grande ecco qua ragazzi promessa mantenuta ciao a tutti di Vale Citroen va la Gio salutiamo la Gio chiaramente spettacolo